Non so più concetto, ma sono lì lì cangì, scantosa e privilegietta, avete voglia di quando mi riportare? E chi mi può contare? Accendo, ma non hai, ma zette in quantità. E chi mi può contare? Fu l'ascenza, fu mi piglia per spagnolo, ma sono nato con dei modi, è dato un pa' chi voglia. Chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnolo, ma sono nato con dei modi, è dato un pa' chi voglia. Caro bebè, guarda un po', chi non mi piace così ti disturba. E non ho il ciorella, che non ha preso a me, e fanno le stelle delle, oltre in dasti caffè, ma io sono un cavera stella. D'ogni caffè sono fanno sul ragunare selle, ha, 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 ha. Ve faccio il punto su là. Chi mi piglia per… Fu l'ascenza, che mi piglia per spagnolo, ma sono nato con dei modi, Mettà coppa chi voglia Il mio figlio è per francesa Il mio figlio è per spagnolo Ma sono nato con demore Mettà coppa chi voglia Caro bebè Con guarda fa I guanti dei gantelli Sette di sotturba E pote un coppo foglia Sento parlare lì In ecco ma l'ombroio Dopo arriva a capire Ma questo non importa Se andrà a sapere a fallare Basta che avessi corte Tutto si può accunciare Chi mi piglia per Fu una scesa Mi piglia per spagnolo Ma sono nato con demore E dà coppa chi voglia Chi mi piglia per francesa Chi mi piglia per spagnolo Ma sono nato con demore Mettà coppa chi voglia Caro bebè Con guarda fa I guanti dei gantelli Sette di sotturba Caro bebè Presidente Ma io non so Ma questo non funziona Che devo presentare Scusi Ma come che deve presentare Ma chi l'ha fatto entrare qui Chi l'ha permesso di cantare Ma come non mi ha riconosciuta No Beh D'altra parte ha ragione In giro Non c'è nemmeno Un mio manifesto Perché faceva freddo No Che c'entra Sono stati coperti Sì giusto Perché erano brutti Ma non perché faceva freddo E nemmeno perché erano brutti E perché E perché ci sono le lezioni In giro E non vede che qualsiasi manifesto Si mette e pa E viene coperto Ah ho capito Comunque mi meraviglio di lei Un presentatore della sua faba Che non mi riconosce No Ma lei chi è? Appunto Oh ancora Mi presento io Visto che lei non mi sa presentare Io non la so presentare Ma stia zitto Ma come? Io sono la più grande La più famosa La più conosciuta Chi è? La più fantastica Ma mi faccia il piacere Ma mi faccia finire Direttamente dal Moneros de Paris Ci sei Carmè Cocotà Carmè la Cocotà La Cocotà La Cocotà Sì 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 Dica dica Io ho sentito Ho sentito No Io ho sentito Come non lei No Allora io ho sentito Cocotà Ma forse non frequentate teatri No Mi sa che nemmeno lei frequenta teatri Ma chissà Andiamoci qui indietro Sì 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 Dica Allora Ma comunque Io vorrei sapere una cosa sinceramente Dica dica Perché io non la conosco Lei non mi conosce? Fermi Che succede? Diamo un minuto Devo dare una comunicazione Ma proprio adesso che sto io qua Vieni qua Signora Cocotà mi dia il microfono E non faccia la scostumata Mi dia il microfono Allora In confidenza La canzonettista che stavamo aspettando Ha avuto un imprevisto Ha trovato due ruote della macchina bucate E quindi non è potuta venire Verrà la prossima settimana Quindi lei Lei chi è? Lei chi è? Chi è? Ma scusate Ma qui non siamo a te le dico? Cosa? Non siamo a te le dico? No 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 E allora le dico Arrivederla Ma guarda un po Ma guarda un po Ma guarda Ma quello che succede ragazzi Andiamo dall'altra parte Perché noi Adesso Ai meno